in cui lo Stato italiano ha dimostrato che se tu hai coraggio e hai determinazione la mafia si può vincere è questa la cosa che noi non dobbiamo dimenticare e ci sono chiaramente il problema è oggi fare in modo che lo Stato non indietreggi perché è ovvio che si ha 27 anni di distanza dalla strage di Via D'Amelio noi non abbiamo ancora la verità sulla strage di Via D'Amelio beh è come se quella vittoria si fosse fermata lì e lo Stato non può andare bene la responsabilità che noi abbiamo è questa la responsabilità della memoria è questa